da quando le cpac cpac idea sono online è possibile iscriversi l'elenco completo si trova la pagina cpac del sito campus party italia dopo aver cliccato sulla cpac o cpac idea di interesse si entra nella pagina dedicata sulla piattaforma campus era per iscriversi è necessario prima registrarsi sulla piattaforma poi è sufficiente cliccare sul pulsante partecipa cliccando su partecipa è possibile creare un nuovo gruppo di cui essere capogruppo o di richiedere la partecipazione ad un gruppo già esistente soggetta all'approvazione del relativo capogruppo i gruppi possono essere composti da una o più persone senza un limite di adesioni consigliamo di formare gruppi da 3 a 5 persone per ottimizzare la qualità dell'esperienza del risultato finale